Siamo qui con il professor Marco Pasetto che è venuto oggi a presentarci un progetto per il convegno Education 2.0 ci racconti un po' il suo progetto Sì, il titolo è Musicando una polifonia scolastica intesa come intreccio di melodie, intreccio di pensieri convergenti, divergenti che possano creare un'armonia consonante o dissonante cioè i ragazzi possono lavorare direttamente nel laboratorio musicale perché la caratteristica è un po' noi siamo figli adottivi di Luigi Berlinguer perché nel lontano 99 abbiamo acquisito quegli straordinari finanziamenti per avere un'adottazione completa di strumenti e un luogo attrezzato per svolgere attività questo ha dato vita a un progetto in rete, in verticale dove i bambini dai 5 anni ai 14 si incontrano insieme per svolgere attività didattiche, musicali e di ascolto Quanti ragazzi coinvolti e quanti insegnanti? Allora, insegnanti, tutti gli insegnanti della primaria che insegnano musica, della secondaria siamo in due e dell'infanzia, circa 30 insegnanti e 735 alunni tra 420 della primaria, 260 della secondaria e 100 dell'infanzia i bambini di 5 anni perché quelli più piccoli diventa difficile E hanno reagito bene i ragazzi a questi ragazzini e ragazzi adolescenti a questo tipo di approccio? Sì, ecco, l'aspetto che mi emoziona è proprio il fatto che quando loro si incontrano si vede lo stupore di acquisire una potenzialità espressiva come attraverso la musica, attraverso l'utilizzo anche di un semplice strumento come l'oxilofono, conoscere la batteria o conoscere gli strumenti che grazie all'attuazione del laboratorio sono tutti visibili e suonabili da un bambino di 5 anni come da un ragazzo di 14 quello di 14 è fortemente responsabilizzato perché aiuta il bambino più piccolo a capire le tecniche e il bambino più piccolo non vede l'ora di operare questo incontro per poter aumentare la propria fiducia anche e l'espressività Un po' di coinvolgimento emotivo e partecipativo da parte dei ragazzi Diciamo che questo progetto ovviamente da quello che capisco coinvolge tantissimo anche l'utilizzo della tecnologia Quali strumenti? Come li avete usati? Allora siamo partiti dal laboratorio di musica con un registratore multitraccia digitale per cui la verifica finale è la registrazione di un cd e la realizzazione attraverso il finanziamento del comune di materiali poi grazie al progetto Gold che siamo stati selezionati il comune ci ha dato la DSL in wireless e abbiamo creato un sito in questo sito i ragazzi possono accedere e scaricarsi le schede che è il loro libro perché non ho il libro di musica ma hanno praticamente il sito dove possono ascoltare tutti gli stili musicali e loro concorrono attraverso Facebook perché mi mandano i consigli Facebook viene utilizzato in questo caso come strumento didattico in qualche modo, comunque di coordinamento Lo uso io personalmente perché loro mi mandano un consiglio Sono diventati i suoi amici? Sì, sono tutti i miei amici in modo che io possa filtrare perché a volte ci sono proposte che non posso mettere nel sito mentre se propongono, non so, l'ultima proposta il beatbox, quel tipo di musica fatta dalla bocca da parte dei ragazzi che imitano la batteria elettronica mi è piaciuto molto e ho inserito una ventina di video di esperti in beatbox che sono consigli dei ragazzi per cui è un libro interattivo dove open source naturalmente dove Con quale tecnologia ha fatto? Con Gimdo il sito Gimdo e Podomatic e YouTube e Vimeo e questo tipo di software uso poi il finale Band in a Box e altri software per arrangiare i brani però soprattutto è Gimdo il sito Un punto di forza di questo progetto cioè un punto di cui va particolarmente orgoglioso e una cosa che invece se potesse migliorerebbe? Un punto di debolezza sicuramente i finanziamenti se prima erano cospicui anche da parte degli enti locali da quest'anno sono azzerati un altro punto di debolezza parto da quelli più drammatici dal peggio dal peggio sì, per finire meglio che ogni anno ci si rigioca un po' tutto per cui nuovi colleghi nuovi sistemi e bisogna ricominciare a innescare per fortuna il progetto parte nel secondo quadrimestre per cui la preparazione è tutta affidata allora si ha tempo per fare i collegi docenti spiegare perché coinvolge 750 bambini persone famiglie più di 30 insegnanti perché è abbastanza una macchina complessa il pregio è il fatto che può essere considerato un progetto in verticale un curriculum innovativo nuovo e utile noi speriamo un'ultima domanda il suo progetto in uno slogan una polifonia scolastica grazie mille grazie mille